Salve, sono Roberto Di Lorenzo, vorrei presentarvi un prodotto nuovo della linea Nash Byte. Praticamente questo è un prodotto diviso in due parti, una parte è la parte pollosa, come vedete, l'altra parte è una parte in polvere, tutti estratti naturali, qui si vede meglio. Come viene usato? Si prende una boiler, si mette nella parte pollosa, in questo modo qui, si toglie, si mette nella parte che c'è polvere e viene messa in acqua. Come viene usato? Come viene usato? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.